Buonasera, con Renzo Morreale, il responsabile dell'area tecnica del Porto Sant'Elpidio Calcio, iniziamo questa piccola conversazione per fare il punto sull'attuale situazione del Porto Sant'Elpidio Calcio. Allora Renzo, anno nuovo, vita nuova. Siamo partiti quest'estate con un organigramma ben definito. Lungo la strada abbiamo perso, diciamo, qualche giocatore, però adesso la società si sta di nuovo adeguando e rafforzando per continuare al meglio la stagione. Allora, prima di tutto, buon anno a tutti e sperando che sia un 2021 sicuramente migliore nel 2020. Do il benvenuto a Sandro Cosso, un mio caro amico che ho cercato fortemente di farlo venire a Porto Sant'Elpidio, nella nostra Porto Sant'Elpidio, perché abbiamo bisogno di un personaggio come lui per organizzarci e fare i meno errori possibili. Dall'inizio dell'anno qualche errore è stato fatto, io personalmente me ne assumo la responsabilità perché in un ruolo nuovo, perché io mi sento un allenatore, non sono uno da scrivania, ma finché sarò dietro la scrivania cercherò di fare il massimo. Cercheremo in questo 2021, con l'aiuto di Sandro e di tutti noi, di migliorare la situazione sia a livello organizzativo e soprattutto a livello tecnico. Per questo già abbiamo due giocatori nuovi in squadra, Stefano Spagna e Paolino Mercurio, sapete benissimo i giocatori in uscita, Manari, Frinconi, Parasegoli, Miccoli, Gesùè, Sprecacè, tutti i giocatori che hanno deciso di chi per volontà loro di abbandonare la nave, chi per volontà nostra di lasciare liberi perché a nostro avviso sicuramente sbagliando ma prendendoci le responsabilità non idoni per fare il nostro cammino. Della rosa della prima squadra fanno parte molti ragazzi che l'anno scorso erano nell'organigramma della Juniors? Sì, questo è uno dei punti fondamentali del Porto Sant'Elpidio, dimenticavo di, perché è giusto fare, di ringraziare Mirko Miccioli per il lavoro fatto e dare anche a Claudio Tridici di in bocca al lupo per la nuova stagione e proprio con Claudio Tridici parleremo e parliamo ogni giorno di valorizzare i nostri ragazzi, i ragazzi del posto perché mi sembra giusto che un vivaglio come quello del Porto Sant'Elpidio adesso in questo momento in difficoltà sia come è stato in questi anni il fiore all'occhiello della società e della zona. Il problema Covid è un problema che sta interessando tutte quante le società e domani avremmo dovuto giocare con l'Agnonienese però la partita è stata rinviata. È un bene oppure è un male? Io, Luigi, ti dico quello che ho detto anche altri colleghi della stampa, io non sono favorevole e non ero favorevole alla continuazione del campionato perché questo secondo me è un campionato falsato, un campionato che non ha senso, un campionato senza spettatori non ha senso, un campionato che alle società costa il doppio e quindi io paradossalmente mi sarei fermato ma questo è solo il mio pensiero. Andiamo avanti con tutte le difficoltà, con i tamponi ogni settimana, andare a giocare con spese e senza entrate. Torniamo alla prima squadra, parlavi di due acquisti di Mercurio e Spagna, un difensore e una punta. La carenza a questo punto è un po' al centro campo anche se puntellare qua e là qualche altro reparto non sarebbe male. Senza fare nomi ha qualcosa in servo la società? La società ha qualcosa nel cassetto che il popolo tirerà fuori perché già da domani vedrete un nuovo acquisto in squadra e molto probabilmente anche due. Questa è dimostrazione che la società non è stata ferma, chiaramente ha dovuto rifare i conti perché è inutile promettere per poi non mantenere. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, la mia più grande vittoria personale insieme alla società, sarà quella di farli credere a quei giocatori che cammin facendo hanno abbandonato la nave in questo momento di difficoltà. Quindi sarà il mio compito togliermi qualche sassolino con questi tesserati, a quei giocatori in una parola grossa. Ok, ringraziamo il signor Monreale e alla prossima intervista, grazie.